Mi chiamo Nick. E io sono Obri. Grazie. Noi due beviamo la nostra urina. In una giornata bevo in media tra i due e i tre litri di urina. Forse anche quattro. Ogni giorno assumo circa due litri di urina fresca. Bevo poche altre cose. Sono diversi anni che ormai non bevo l'acqua. Mi sento molto più nutrito bevendo la mia urina che bevendo l'acqua. È deliziosa. Ha un sapore piuttosto dolce e... Odora di popcorn al burro, ma non è tanto pungente. Mi sento radiosa, viva, attiva e innamorata di me stessa e della vita, da quando lo faccio. Secondo me, i benefici principali del bere urina sono l'idratazione e la digestione, che è molto migliorata da quando lo faccio. E poi recupero le sostanze nutritive. La maggior parte dei nutrienti del cibo finisce nelle urine invece di rimanere nell'organismo. Uso l'urina anche per la cura della pelle. E se ho un graffio, un taglio, una ferita aperta o esposta, la utilizzo per via topica. La uso sui capelli, a volte anche per lavare le orecchie, come collirio per gli occhi. E la uso anche come colluttorio per gli sciacqui.